A quanto pare il mio ritorno non è benvenuto. Vi siete tutti fatte un'idea su di me. Non posso piacimarvi. Bene, ragazzi, chi è che lo farà? Chi è che mi ucciderà? Ma non mi importa. Su, fatelo. Vi prego. E lo farai tu, Witschek? Pensi di essere un uomo? Io ti sfido. Tirami fuori dalla mia miseria. Fallo. Fallo. Fallo, fallo, fallo! Fallo. 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 Grazie a tutti. 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 Che razza di padre abbandonerebbe i suoi figli?